Buonasera, bentrovati al TG Med Sport. Una buona notizia per il Palermo che arriva dall'Under 21 di Luigi Di Biaggio che ha convocato 23 giocatori per la sfida di mercoledì e 5 per una qualificazione ai campionati europei. Si gioca all'Urgan contro l'Irlanda del Nord. C'è anche l'attaccante del Palermo Andrea Belotti. Belotti che già ieri ha giocato 25 minuti dell'amichevole in famiglia, si è mosso bene, ha trovato dunque il conforto del campo dopo oltre 50 giorni dall'infortunio al tendine della gamba. Una diagnosi inizialmente sbagliata che poi invece ha dato un esito più grave del previsto e dunque tempi di recupero più lunghi. Ormai comunque il peggio sembra essere passato. Di fatto arriva anche una conferma in diretta con la convocazione in nazionale Under 21. A centrocampo Beppe Iachini recupererà Maresca. Ha perso Di Gennaro un infortunio al Polpaccio. Ritrova però l'ex Sampdoriano dopo la giornata di squalifica. Così come Aceraf Lazar sulla corsia di sinistra. Maresca ha spiegato come ancora non si è riuscito a prendere davvero per mano il Palermo. Le partite che ho giocato qua sono state quattro anche a livello personale. Credo di aver disputato dei momenti buoni e dei momenti meno buoni. Però credo che quello ci sta e quindi sono fiducioso per quanto riguarda il futuro perché sono convinto che sia a livello personale sia a livello di squadra ci troveremo sempre meglio. Delle quattro partite che ho giocato tutte quattro avevo delle marcature a uomo e quindi diventa più difficile. Tante volte devi essere intelligente anche magari non ricevendo palla però fai un movimento che può creare uno spazio per un compagno e far sì che il compagno possa ricevere palla. Quindi diciamo sì i tempi di reazione sono brevi. Devi ragionare subito e tante volte devi ragionare prima che ti arriva la palla. Quindi diventa difficile però comunque quello è il mio ruolo e quindi lo faccio ben volentieri. Nella mia carriera penso che quella era nei 17 anni da professionista la terza. Non vorrei sbagliare. Direttamente rosso penso che sia stata la seconda. Non credo sia importante. Non mi era mai capitato a 26 anni della fine e credo che comunque gli arbitri come noi possono eventualmente sbagliarsi. Io credo che in quel caso là, come direi a me stesso se sbaglio un gol, che ho sbagliato un gol, in quel caso là direi all'arbitro che comunque non ero d'accordo, non era un faro d'espulsione. Però ripeto, il lavoro dell'arbitro è difficile. Tante volte sei a casa e anche da casa con il replay vedi un'azione e dici ma è fuori gioco o non è fuori gioco? Quindi anche per loro è una frazione di secondo. L'arbitro può sbagliare e magari in quel momento non la prendiamo bene. Però ci sta e bisogna cercare di dargli una mano. Restiamo in Serie B con il Trapani. Il Trapani che deve andare a giocare a Cesena. Cesena terzo in classifica lo fa con il ritrovato spirito di Mario Pacilli ma anche con lo spirito battagliere invece della società che ha preannunciato il ricorso per la giornata di squalifica alla Curva Nord. Si giocherà un turno di campionato con la Curva Nord chiusa. Questo perché la squalifica è arrivata dopo i fatti descritti nel referto arbitrale al termine della sfida contro il Modena con due sassi che hanno colpito l'assistente di gara. Dunque il Trapani si dissocia chiaramente da questo episodio. L'ho fatto attraverso una nota sul sito ufficiale e si appella proprio al fatto di essere tra virgolette la parte lesa. Il buon tifo di Trapani non può essere rovinato da un episodio chiaramente singolo. E allora ascoltiamo il jolly di Boscaia Mario Pacilli. Questa è la dimostrazione che sabato è capitata a me ma comunque è capitata anche ad altri che comunque chi sta giocando meno si fa sempre trovare pronti. Questa è una dimostrazione che il gruppo è unito e che tutti quanti riammiamo dalla stessa parte. Tutti vogliamo il bene di questa squadra e tutti cerchiamo di farci trovare pronti quando veniamo chiamati in causa. Sabato sapevamo che poteva essere una partita difficile come alla fine lo è stata perché comunque anche loro hanno espresso un buon calcio e ci hanno provato a mettere in difficoltà durante la partita. Però siamo stati bravi sia all'inizio quando abbiamo subito cercato di inirizzare la partita nel modo migliore. Infatti siamo riusciti facendo gol e poi credo che comunque nel momento migliore loro noi siamo riusciti a fare il 2-0 che lì poi le cose si sono incanalate nel migliore dei modi. Con lo spirito, ovviamente non dico con la tranquillità ma con la consapevolezza che stiamo facendo bene. Quindi vogliamo continuare a farlo, la voglia c'è e quindi andiamo lì con la voglia che ci ha contraddistinto in tutte queste partite e quello di cercare di fare sempre bene e fare i più punti possibili. Restiamo sempre a Trapani però andiamo a vedere nella sezione sport del sito trmweb.it le notizie che riguardano il Cesena con la partita in famiglia per la squadra di Bisoli un test durato 50 minuti con assegno Succi e Belinghieri. Ovviamente 1-1 il punteggio finale. Camporese, Consolini e Ingegneri hanno svolto l'allenamento in gruppo. Fisioterapia e palestra per Coser mentre Bangura svolto differenziato. Coppola ha continuato nel suo programma di recupero. Questo per quanto riguarda il Trapani in Serie B. Invece per il Catania in Serie A parla il portiere Andukar. lo fa con la consapevolezza di dover andare per forza a fare risultato a Marassi contro il Genoa. Dice Andukar non possiamo sbagliare atteggiamento contro il Genoa. Tra l'altro insieme a Peruzzi Andukar fresco della convocazione nazionale. Da parte di Isabella parla della trasferta di Verona. A Chievo è mancata la cattiveria giusta, ha detto il portiere del Catania. Invece per quanto riguarda il Genoa ho già giocato al Ferraris. I tifosi non segnano e quindi non avremmo paura. Affrontiamo il Genoa e non i tifosi. E poi un pensiero al suo collega Perin del Genoa. Il giovane portiere, tra l'altro anche lui, convocato in Under 21. E dice Perin è un buon portiere. Gli auguro un gran campionato, eccetto per domenica. Dunque queste le parole di Mariano Andukar. Noi torniamo a parlare del Palermo. L'avete ascoltato in apertura. Maresca che non si sente ancora padrone del centrocampo del Palermo. Ascoltiamo l'opinione di Salvatore Geraci. L'umiltà del grande campione. Mi fa piacere. Io ho posto queste due domande che mi sembravano essenziali. E lui ha risposto con una sincerità veramente disarmante. Cioè lui dice io sono qui pronto. Ho fatto delle cose buone. Altre non le ho fatte. Però i ragazzi mi fanno sentire importante. Capisco che questa è una squadra che mi può appartenere. E insomma il Palermo studia proprio per questo. Mi è piaciuto proprio l'umiltà con cui si è calato. Perché in fondo lui non ha fatto né meglio né peggio di quelli che l'hanno preceduto. Quindi insomma è poi un campione che arriva qui con tanti anni alle spalle. In giro per il mondo da quando è nato. Con titoli, dopo titoli conquistati. Insomma dire una cosa del genere significa che il Palermo può contare su un protagonista di assoluto valore. Torniamo a dare uno sguardo a trmweb.it nella sezione sport. Ricordandovi che tutte le edizioni le potrete ovviamente rivedere nella sezione dedicata. E allora le parole del portiere del Catania Anducar ma soprattutto la notizia con cui abbiamo aperto. Cioè Belotti convocato in Under 21. Dunque un segnale ancora positivo per il completo recupero dell'attaccante per Beppe Iachini. Anche in vista della sfida contro il Bari di sabato prossimo. Non ci sono altre notizie. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Panificio Badalamenti. Infinite specialità da gustare. Arancine. Un euro. Pizze familiari. A soli 5 euro. Panificio Badalamenti. Panificio. Rosticceria. Pizzeria. Dolci classici e moderni. Panificio Badalamenti. Sacca a tubare. Un temi pente. Via Francesco Crispi numero 290 a Palermo. Infoline 388 9088 192.